Prezie! Benvenuti in questo nuovissimo video epico! Perché ho detto epico? Perché non è un trash di merda e scrementizio, è un video epico! Epico nel senso che voi oggi vedrete l'assurdo! Vedrete un video che non vi saprete spiegare, non è un video montato, è un video in presa diretta! Cosa significa video in presa diretta? Quella persona sta facendo quelle cose davanti a un pubblico! Quindi non è montato, non è truccato, beh il trucco ci dovrebbe, per forza ci deve essere, ok? Però non ci sono effetti speciali in post-produzione come ci potrebbero essere in un film di fantascienza, per farvi capire, no? Ma prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link! Tempestate di like questo video, come sempre! Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video! Il mio Instagram, come al solito, ve lo tralascio possentemente qui, mi raccomando, andatemi tutti a stalkerare anche su Instagram! E' il video epico di Magia Suprema, perché di quello si parla, di magia! Che andremmo a visionare! Si chiama il campione mondiale di magia del 2018! Via! C'è quindi in pratica parte tutto da quella scatola! Che cacchio! No, un attimo! Pausa! Voglio rivedere sta scena! Cioè, li aveva in mano come cacchio è possibile che sono comparsi sul tavolo! E questo è tutto in tempo reale, eh! Cioè, è davanti al pubblico! Non è un video che è stato tagliato, rimontato, quindi giustamente ci possono mettere degli effetti speciali! No! Rivediamo sta scena! Raga, scrivetemi nei commenti come cacchio ha fatto! C'è quindi da un lato, mette le carte rosse, dall'altro le carte blu! Solo che in mano ha solo un mazzo di carte con il retro rosso! Cioè, sono tutte rosse! Il mazzo è tutto rosso! E infatti è tutto rosso! Non è un attimo, raga! No! 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 No ora! Cioè, ma allora... In pratica lui ha messo il nastro al centro! In uno ha messo la carta rossa, nell'altra una carta blu! Il mazzo era tutto... Tutto rosso! Con il retro delle carte rosso! E nel settore rosso le carte di... Come cacchio ha fatto? Voglio rivedere un attimo la scena di quando lui mette la carta nel lato blu! Il raga aveva il gilet tutto nero! Tutto nero! È diventato rosso e blu il gilet! Perché ha toccato il nastro! Raga, voglio rivedere questa scena! Raga, è un mostro! È un mostro! No, vabbè! No, dai, no! Non mi puoi prendere per il culo così, dai! Raga, è magia vera questa! È impossibile! Ma da dove cazzo se li esce quelle carte? No, vabbè, dai! Raga, è il campione mondiale del 2018 di magia! Il campione mondiale! Cioè, addirittura ora scompaiono le carte! Scompaiono le carte! Rivediamola sta scena! Rivediamola! Perché veramente... Io sono scioccato! Raga, è epico! Cioè, mette la carta e scompare la cazzo di carta! Ma che cacchio è? Ma se le assorbe! Non lo so che... Che cos'è un simbionte? Che cacchio è? Si assorbe le carte nella pelle della mano? Cioè, se le incorpora le carte, questo! No, vaffanculo! Ma affanculo! Non me lo... No, 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 vabbè, no, dai! No, 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 no! Cioè, un attimo! No, 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 no! Aspetta, no, raga, aspetta, un attimo! Mettiamo pausa, un attimo! Un attimo, raga, pausa! C'è un limite a tutto! Spero che ci sia un trucco, però è impossibile che... Che nel tavolo nero... Cioè, non c'è un cacchio nel tavolo! Metti una carta, passi il filo e la carta scompare! Addirittura si taglia! Lo devo per forza rivedere, raga! Perché voglio capire! Fino ad ora non ho capito un cacchio di quello che ha fatto! Però l'ha fatto! Lo voglio rivedere! Mi volete sniegare come cacchio ha fatto a fare sta cosa, raga? Scrivetemelo, per favore, in descrizione! Una moneta, raga! Adesso subentrano le monete! No! Pausa! 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 Cioè, le carte si trasformano in... Ma dove cacchio te li infili le carte? Cioè, raga, spiegatemi la meccanica! Se lui ha la carta in mano, ok? Ok? C'ha la carta in mano! Per trasformarla in moneta, dovrebbe avere la moneta già in mano insieme alla carta, ok? Cioè, lui lascia andare la moneta e la carta se la incorpora! Come cazzo fa, raga? Come fa? E ritornano carte! Un attimo! Il gilet! Il gilet è ritornato nero! Dove cacchio è andato a finire il filo? Dove cacchio è andato a finire il filo? Oh, no! Oddio! 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 No! No, no, no! Aspetta! Pausa! Pausa, raga! O è stato montato sto video, ma non credo perché è in impresa diretta, ok? Perché comunque era davanti a un pubblico. O è stato montato... O è... O è... O è flash! O è flash, raga! È fulmineo! Ma è tipo Harry Potter, levati! Cioè, Udini, levati! David Copperfield, levati dalle palle! Cioè, levati completamente! Cioè, siamo qua ad altri livelli siamo! Cioè, da del filo scompare e lui diventa tutto... Cioè, il gilet gli diventa nero! Come cacchio è possibile? C'è qualcuno sotto il tavolo che tira? No, no! Proprio scompaiono! Si smaterializzano le cose! Non è che sono tira... Allora, il filo sembrava tirato, ok? Il filo sembra tirato. Ma i due rettangoli si smaterializzano! Ma che cacchio è? Raga, è assurdo, no? Veramente! Pazzesco! Meritatissimo, raga! Il campione del mondo del 2018 di magia! Meritatissimo! Meritatissimo! Grande! Non ho mai visto niente del genere, raga! Niente, niente di simile in vita mia! Ragazzi, questo video di magia epico! Veramente pazzesco, raga! Finisce qui! E mi raccomando, in descrizione trovate sempre e comunque tutti i miei link! Tempestate di like! Questo video, come sempre! E mi raccomando, mettete mi piace, commentate e soprattutto condividete! Ciao, ciao! Ciao, ciao!